Wahegooj, ben ritornati da vostro, andro in cronatuno di questo nuovo episodio extra di Nazma Eleven 3 Lampo Folgorante Siamo sempre sull'isola dell'Idra, dobbiamo affrontare la selezione All-Star nel super torneo fantastico Selezione All-Star, usa la squadra della storia, l'ho detto nello scorso video che avrei fatto questo prossimo episodio contro la All-Stars Dato che si trovavano comunque sull'isola dell'Idra, e si praticamente sarebbe la selezione del mondo I più forti giocatori del mondo nella selezione All-Star Non sarà affatto facile, sarà difficile credo Dunque, vediamo un attimo un po' la squadra, no, mettiamo qui Sanford, anzi qui Sanford Va bene così, ok, questi sono sempre i giocatori che uso Come ho detto sto allenando anche gli altri ma è difficile Aspetta, selezione mondiale è questa? Forse i panchinari delle squadre, no però, alcuni sono giocatori non panchinari Boh, non lo so ragazzi che succede, comunque sia, tutti sopra il livello 60 Abbiamo Ortega, abbiamo Siemens Monstro Saeed Darman, Lance Realton Umi Wang Coruja Sereso Non so come si legge sinceramente Coruja o Coruia Dovrebbe essere Coruja, la Jay dovrebbe sentirsi ma non crede, non lo so Raffaele Generani Generani, Giulio Acuto, ok Dylan, 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 perché Dylan, Dylan Kitz Riff, si si legge Hamilton Riff in effetti Drago Hill e, ok, panchinari Pierre Godin, o Goden Matteo Bonacea, che nome è? Thorsten Welger Michele Roserati E Adam Marunga Le tecniche, vabbè, diamo uno sguardo abbastanza veloce Poi se volete, vi bloccate il video, ve le leggete oppure non ve le leggete Fate come volete Vabbè, giochiamo che è più bello, va a giocare Ok Cavolo quanto è scuro lo schermo di qua E va bene, giochiamo allora Passiamola un po' a lui Passiamola subito dietro e poi avanti Subito, ok Al centro c'è qualcuno qui Grande, grandissimo Xavier Non mi venivano i nomi dei giocatori Brutta cosa Dunque, potrei andare con scarica stellare per potenziarla Ma posso farlo per conto mio quando mi alleno Quindi grande fuoco Non credo che allenerò ancora questi giocatori Allenerò gli altri, ma questi non penso che li allenerò ancora Sono già fortissimi così E la selezione All Star È la squadra più forte che c'è per il Super Torneo Fantastico Della linea di sotto Della linea di sotto Grande, grande, oh mio Dio E la squadra più forte della linea di sopra non lo so qual è Non so neanche se riuscirò ad affrontare tutte quante le squadre del Super Torneo Fantastico Non perché non voglio Ma perché alcune non so come trovarle Infatti devo affilarmi alla Wikia Per trovarle O alla Wikia oppure a Fuck Games F-A-Q Non Fuck Prolaccia Non lo so ragazzi, davvero Purtroppo a volte mi serve l'aiuto esterno Quindi Internet mi viene in soccorso No ragazzi, davvero Non posso fare neanche Meteora di rompente Uffa Non ho voglia di fare subito in Fever Vabbè Tiro abbastanza potente Potenza Medio alta Andiamo un po' Lo para sicuro Ovvio Ovvio Ah però spreca i punti lui Va bene Va bene così Va bene così Già cambiano il portiere questi Se non questo Il prossimo gol O prossima volta che c'è un attimo di Di pausa della partita Con palla ferma Si cambia il giocatore Doro Ah già vanno in forore E va bene Non c'è alcun problema Anzi va benissimo Doppio ciclone con Giude Ok grande Contro Giulio Giulio Acuto Lo sto allenando Anche a un livello alto Ce l'ho anche io ovviamente E probabilmente Lo metterò come titolare Volevo metterlo a posto Di Giude Sharp Perché Giulio Acuto È fighissimo Un po' italiano Meglio di questo Anche se hanno scritto Giulio con la J E non con G Cambiano Ho visto Non ho detto che cambiavano L'ho detto Oramai so come agisce Il computer su Inazum Eleven 3 Quindi non mi stupisco Più neanche Ok ottimo No passiamola un po' Al te qua Ok perfetto Non è un fuorigioco E subito in porta Con Penguin Imperatore Numero 1 Eccolo qua In tutta la sua Splendezza Splendezza si dice Si È una parola Diciamo allora Splendente Beltà Non ce la fai Tocco pungente Sì questo gioca A fiore Gioca Per dire Pratica a fioretto Allora no Mi punge Con le mani Ma no Non ce la fai Ok ok Perfetto Già 2 a 0 Al ventesimo Del primo tempo Un po' Bassino Vorrei riuscire a fare A fare il terzo Per il primo tempo Così il secondo Me lo gioco Leggermente Più calmo Ma comunque sia Sempre attivo Per fare un Quarto e quinto Gol Quindi Ragazzi Diamoci da fare Conto su di voi So che possiamo farcela E tiro con Axel Grande Non mi fido di lui Quindi Fiammata tripla A livello 5 Oh Non so perché Ci ha messo davvero Tanto a potenziarla Questa Eppure la usavo Praticamente sempre Anche durante Le amichevoli Contro la squadre Insomma Meno interessanti Usavo sempre Axel E lo ricaricavo Usavo e ricaricavo Usavo e ricaricavo Tre volte a partita E facevo sempre Fiammata tripla Ma non si potenziava Era bloccata Al 3 E poi bloccata Al 4 E finalmente Al 5 È arrivata Insomma Era anche ora Perfetto Con Axel Posso fare Questo Flash fotonico Che mi ruba Palla Ok Però ora Axel È finito Non lo ricarico Per questa partita Credo No Ora non uso Le mosse speciali Le lascio consumare A loro Tanto il primo tempo Ora me è finito Ci vuole una certa Tattica In Nazima Eleven Oltre a predisporre Certi giocatori In certe posizioni Fiamma irregolare Tantissimo L'amo Poi Tiago Torres No Io volevo Volevo reclutarlo Fin dall'inizio Ma non perché Tiago Torres Mi piace proprio Come giocatore E Perché aveva anche Difesa di ferro E poi ho scoperto Che era un giocatore di fuoco Non me lo ricordavo Minimamente Io ragazzi Vi dico la verità La prima volta Che ho giocato In Nazima Eleven E' stato per DS In giapponese Ed era Il 2010 Fine 2010 Inizio 2011 Anche perché In Nazima Eleven L'ho scoperto Tardi come tanti Quando è uscito in Italia All'anime E ho giocato Tutti quanti i giochi Della serie Primo Secondo Terzo In fila E E' stato davvero Bello come gioco Scoprirlo Comunque sia Anche in giapponese Io diciamo che Ho iniziato a studiare Il giapponese Proprio per giocare In Nazima Eleven Perché non ci capivo Nulla Se no Ok Tiago Torres L'avevo reclutato Ma non l'ho mai usato Veramente Sul terzo Quando giocavo Col DS Mentre qui Ho voluto dargli Una seconda chance Ho voluto darmi Una seconda chance Di reclutarlo E quindi Poi giocarlo Sapete che c'è Vado in furore Vado Allora Stiamo Stiamo male Così Ok Ottimo Guarda posso fare Non posso fare Grande fuoco Va bene Scarica stellare Se quello Se quello Non me la blocca Però Questa E' una delle mie Mostre preferite Di Nazima Eleven 3 Vabbè Anche di tutti quanti Di Nazima In generale Wow Grande Davvero Xavier E' un giocatore Che è Fantastico E non vedo L'ora di scoprirlo Su Ares Che su Ares Comunque sia Come è già Stato detto Ampiamente E' il vero Xavier Schiller Non è Xavier Foster E' Xavier Schiller Il vero Xavier Schiller Quindi ragazzi Sono davvero Fomentato Quando uscirà Ares Porca miseria Lo spolpo Fino all'osso Io davvero Tutti gli Nazima Eleven L'ho spolpati Tutti Ho reclutato Tantissimi Giocatori E Giocarli ulteriormente E' stato Un po' Come rivivere Il passato Niente Mi sono preso Un colpo Perchè ho sentito Una botta tremenda E Sono due Due cocce Che non fanno Per uno Che stanno facendo rumore Quindi Evitiamo Invece di chiamare Il maschio Chiamano Altra femmina Che ci sto a faio Qua dentro A giocare A videogiochi E' però Pari tutto Pari tu Quando tira Normale Va bene Andiamo avanti Andiamo avanti Oh no Devo cambiare Il giocatore Che è successo Oh grande Oh grande Oh grande Sono ancora No non sono più In burning Calma Calma Calmina Calmina Piccolina Ricarichiamo A questo punto Ricarico Il bellissimo David David Sunford Ok Ok Posso evitarlo Agilmente Ce l'ho per il pinguino No Per il pinguino Forse non ce l'ho Ma per il secondo Si Oh no Ce l'ho per il pinguino 58 Non era 61 Vabbè Sto fuori di testa Lasciamo perdere Buono 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 E il quinto gol E' fatto Ottimo Sono contento Sono contento Così Giocare contro questi Giocatori di questo livello Fa aumentare molto Di molto I punti Esperienza Che prendi Ed è fantastica Sta cosa Oh che bello Va bene Io posso Giocarmela Molto tranquilla Ora Come l'ho detto Possiamo stare più tranquilli Il quinto gol E' fatto Chewing gum E ciao Beh lui è americano Che tecnica Vuole usare Oh no Oh Badena difensiva Bam Ehm Un attimo Ok Dovrei essere Tornato Con la Quella Webcam Che si era Bloccata Stranamente Non so Cosa succede Dribbling Illusorio Con lui Davvero Non lo sapevo Non lo sapevo Che avevo Dribbling Illusorio Va bene E tiriamo Tiro Potenza Massima Capace Ci scappa Il sesto Gol Non si sa mai No Viene bloccato Calcio stellare Bello Bello come nome Come tecnica Ma Normale Perché va Perché fate queste tecniche Proprio allo scadere Vabbè Vabbè Mo Andiamo con Goddo Cacci Barata suprema Eh vabbè Scusatemi Tanto per dire Blocca Tiro bloccato C'è così Hai vinto Abbiamo vinto Beh Del resto C'era da aspettarselo Abbiamo perso Non esiste Vediamo un po' Che ci danno Non ci danno nulla Però i livelli I livelli Ragazzi Wow Quindi Queste due squadre Sono fatte Vabbè Questa vittoria 2 Lo sapete perché E ok Quindi L'isola dell'Hidra Abbiamo Finito Pavone Pavone Condor Sull'isola del Condor In un luogo Celestiale Ok L'indizio è Isola del Condor Quindi con Hidra Abbiamo finito Questi qui Ho capito dove sono Non c'è alcun problema So dover affrontarli Ah Può interrompere Sì Bene Se ci andassero piano Con il rumore Bene Cuj Per questo video è tutto Allora Come sempre Vi ringrazio per averlo seguito In descrizione Come sempre Vi ricordo I link per Twitter E Instagram Se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre domani Con un nuovo video Bye bye